Meneses squalificato e Spinelli infortunato. Sono queste le due pedine che mancheranno a mister di Costanzo domenica prossima nel derby con il Nardò. Se per il primo l'assenza è certa per squalifica, il capitano Spinelli appunto potrebbe anche recuperare, anche se al momento resta in forte dubbio. Il raso posto in mezzo alla difesa potrebbe essere preso da Alfano. Il morale nella truppa adriatica è alto, ma c'è anche la consapevolezza che il Nardò è un osso duro per organico, ma anche per la medesima volontà dei biancozzurri, cioè quella di conquistare un risultato positivo in chiave permanenza. E poi il derby con Iannieretini è da sempre molto sentito. Ecco perché mister di Costanzo chiederà ai suoi, come sempre del resto, la partita perfetta. Perché una squadra che al giro di Boa ha solo 12 punti, anche se quasi completamente cambiata, non può che essere lodata per quanto fatto fino a questo momento 40 punti e fuori dalla griglia play-out. L'auspicio è che resti lì fuori da quella griglia maledetta per gli spareggi salvezza. Lo merita la piazza, lo merita la società, lo meritano i ragazzi che scendono in campo ogni domenica e quelli che soffrono in panchina e in tribuna. E ora sotto con il Nardò e come dice mister di Costanzo, step by step, i conti si faranno alla fine.